Una città, una maglia, un amore. Grigi nel cuore, ore 21 su Telesity 1, canale 111 del digitale terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. Lo Sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Fiali Pegaso, i veri mobili artigianali veniti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più, tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it Si è aperta la pre-vendita dei biglietti per la ventisesima partita del cuore che vedrà scendere in campo la nazionale Cantanti e i campioni per la ricerca. Martedì 30 maggio alle ore 20 allo Juventus Stadium di Torino. Quest'anno la nazionale italiana Cantanti celebra i 30 anni della nascita dell'associazione e l'obiettivo è quello di superare il record di 2 milioni e 111 mila euro ottenuto nel 2015 sempre allo stadium. La raccolta fondi della partita del cuore 2017 servirà a sostenere la ricerca e donare speranze concrete a favore della Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus e di Fondazione Teleton. I prezzi dei biglietti variano da 10 a 20 euro in base ai settori e possono essere acquistati anche sul sito internet di listicket.com e tramite il call center al numero 892-101. La nostra fondazione è una fondazione che è entrata nel cuore di tutti i piemontesi da sempre. Tant'è vero che abbiamo lì a Candiolo un oggetto che vale più di 200 milioni di euro e questi 200 milioni di euro non sono 200 milioni di euro raccolti e presi da grosse industrie, no, sono la maggioranza di donatori piccoli, cioè di persone che hanno creduto in questo sogno che è diventata una realtà. Il sogno di continuare ancora una palla è sempre vivo, questo vale con gli amici quando si gioca, nel mio caso, a giovedì o quando si gioca anche per uno scopo così importante come la partita del cuore, scopo perché poi si tratta di raccogliere fondi da una parte per Teleton e dall'altra parte per l'FPRC, per la Fondazione Piemontese, per la ricerca cancro. La ricerca è altrettanto importante e sta a chi opera all'interno di queste strutture continuare a dimostrare che i soldi che vengono donati, che vengono investiti sono per uno scopo altrettanto nobile che non è la creazione appunto dell'istituto ma la ricerca che è quella che deve permettere ai medici che lavorano quotidianamente di riuscire a raggiungere se non la cura, le cure, ovviamente delle soluzioni che permettono il miglioramento della qualità della vita dei pazienti e infine debellare quelli che sono problemi che riguardano tutti noi indistintamente. Sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria Visita il sito pegasomobili.it Il meteo, in collaborazione con Vuoi rottamare la tua vecchia stufa? Fino al 30 giugno, Punto Fuoco ti offre su tutte le stufe Montegrappa uno sconto rottamazione del 40%, montaggio e certificazioni a 165 euro finanziamento a tasso zero in 12 mesi con prima rata a 90 giorni Vuoi saperne di più? Attendi qualche secondo Fino al 30 giugno, Punto Fuoco ti offre su tutte le stufe Montegrappa uno sconto rottamazione del 40%, ritiro e smaltimento usato assistenza in 24 ore, opportunità di canalizzazione detrazione fiscale del 50% e il Val 10% Punto Fuoco a Tortona sulla circonvallazione Domenica 14 maggio torna l'appuntamento con la Zalea della Ricerca Con un contributo di 15 euro riceverai la Zalea della Ricerca un regalo speciale per la Festa della Mamma e un gesto concreto a sostegno dei progetti di ricerca sui tumori femminili I volontari di AIRC ti aspettano in piazza Per trovare la piazza più vicina a te www.lafestadellamamma.it www.lafestadellamma.it